Nell'Eucaristia Gesù si affianca a noi, i pellegrini, nella storia per alimentare in noi la fede, la speranza e la carità, per confortarci nelle prove, per sostenerci nell'impegno per la giustizia e la pace. È la riflessione che Papa Francesco ha pronunciato prima della recita dell'Angelus nel giorno in cui in Italia e in molti altri paesi si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Un mistero centrale della fede che ramenta a tutti oltre il tempo che il figlio dell'uomo crocifisso è il vero agnello pasquale che fa uscire dalla schiavitù del peccato e sostiene nel cammino verso la terra promessa. Questa presenza solidale del figlio di Dio è dappertutto, nelle città e nelle campagne, nel nord e nel sud del mondo, nei paesi di tradizione cristiana e in quelli di prima evangelizzazione. E nell'Eucaristia egli offre se stesso come forza spirituale per aiutarci a mettere in pratica il suo comandamento, amarci come Lui ci ha amato, costruendo comunità accoglienti e aperte alla necessità di tutti, specialmente delle persone più fragili, povere e bisognose. Dopo la preghiera dell'Angelus, il pontefice ha pregato per le vittime del violento incendio scoppiato in una foresta nel centro del Portogallo, prima di ricordare la messa del pomeriggio sul sagrato di San Giovanni in Laterano, seguita dalla processione con il Santissimo Sacramento fino a Santa Maria Maggiore. Ha chiesto poi di pregare per il suo pellegrinaggio martedì prossimo a Bozzolo e Barbiana per rendere omaggio a Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. Infine, un pensiero è andato alla qualificata rappresentanza della Repubblica Centrafricana e delle Nazioni Unite a Roma per un incontro promosso dalla comunità di Sant'Egidio.